È del 9% la percentuale odierna dei nuovi positivi abruzzesi sul totale di tamponi processati. Si registrano nelle ultime 24 ore infatti 264 casi di infezione da SARS-CoV-2 nella nostra regione, in età compresa tra i 6 mesi e i 95 anni, su un totale di 2.931 test effettuati. Con questo ulteriore aumento diventano complessivamente 30.974 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, numeri comunque in sostanziale discesa, visto che gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 16.321, meno 128 rispetto a ieri. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 33, di cui 20 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, ma anche per effetto dei decessi 7 che si registrano rispetto alla giornata di ieri. In questo modo, considerando i due nuovi ingressi, i reparti di terapia intensiva abruzzesi vedono lo stato attuale ricoverate 64 persone, mentre sono 666 i pazienti, più 8 rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Gli altri 15.591, meno 131 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASD. Del totale dei casi positivi, 10.049 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 124 rispetto a ieri, 5.946 in provincia di Chieti, più 15.6218 in provincia di Pescara, più 41. 8.346 in provincia di Teramo, più 82, 256 fuori regione, più 5 e 159, meno 3, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.